Sono circa mille le domande raccolte dalle sedi del CAF della Will Frosinone per il reddito di cittadinanza, numeri importanti che testimoniano come siano molte le famiglie in difficoltà nel territorio ciociaro. Entrando nel dettaglio delle domande inoltrate ai centri di assistenza fiscale Will di Frosinone, Anagni, Sora e Cassino, sono soprattutto gli italiani, ben l'80%, ad aver fatto richiesta di accesso alla misura di sostegno sociale contro il 20% di domande provenienti da stranieri. La maggior parte di richieste si colloca nella fascia di età 40-60 anni, a seguire quella 31-40 anni e infine 61-66 anni. Secondo il provvedimento governativo, a coloro che verrà erogato il reddito di cittadinanza verranno proposti degli impieghi dai CIP. Al terzo rifiuto cadranno i requisiti e non ci saranno più benefici economici.